Aldalzi stompi, facciamo veloce, vabbè al solito, no? Via al dente e via al dolore, c'è due scimmie per accelerare, la monoblass zone, il main superstock, di side c'è la kick di due Mystic Forge, eh quella può essere una bella idea, può essere una bella idea, però non so quanto, cioè, questo mazzo qua non è che faccia così tanto male, cioè lo fai, Mystic Forge, non puoi giocare le tande, di Mystic Forge, il fatto è che tutto può essere, non lo so, c'è da dire che se hai giù occhio di Eugene puoi giocare i Mimic gratis, puoi giocare i Anderson gratis, quindi dovrebbe funzionare abbastanza bene. Cioè comunque hai la possibilità di filtrarti la pescata da troppettare. Sì, sì, ma questo mazzo qua adesso, secondo voi, come è messo? Vabbè sta bene Dante, eh va bene, sta bene Dante, siamo d'accordo. Da Delve come sta la Canadian? Ma da Delve sta che, se, cioè, comunque Thermogolf è una creatura che rompe le palle, se quell'altro riesce anche a mettere giù Brandon Six, poi ci sta peggio di prima. C'è il rimbazzo, ci sono le Force of Negation. Però è la versione che ci sta meglio, perché comunque può tranquillamente vincere la race con la partenza forte, cosa che magari la versione Big Eldrazi faceva molto più fatica. Beh, Big Eldrazi direi che quando è uscito Brandon Six ha perso veramente tanto, perché insomma... Ah, devi giocare quattro cannocchiali di Mimic per forza, se vuoi giocare con il mazzo. Sì, per forza, perché altrimenti... E quindi, vabbè Dante, UV Elementor dovrebbe starci bene o male sopra. Ma è un mazzo probabilmente giocabile, però con il back of the Canadian, sì, anche secondo me stai sotto. Cioè, stai sotto. Non so se stai sotto, però comunque invece di starci bene, come speravi, ti tocca sudare. No, mi ha saltato qualcosa. Mi ha saltato la bella lista di Pagliugi, che ha fatto dei campi. Beh, qui... Ha messo i recruiter. Ha messo i recruiter, che gli avevo suggerito al Four Seasons. Ehm... Non è una brutta idea. Ha messo... Ha tolto Nicole Bolas. Racewalker. E ha messo Liliana, Dead Order, quella nuova. Non so che cazzo faccia. Fa delle figate comunque. Sì, è anche abbastanza castabile. E anche Aspett fa delle cose interessanti. Decide. C'è Emacool, ci sono i tappeti. C'è Edron Bianco. È un mazzo che è stato massacrato da Coso, tra l'altro. Da Tassotti, con Bridge Line in top. Che è andata troppo forte. Però qualche rispostina ce la può anche avere. Però da quei combo lì... Come abbiamo detto... Però apre con le line del nulla o... Come abbiamo detto... Cioè, se beccante non vince mai. A meno di cose clamorose. Se becca show non vince mai. No. Ecco, se becca... No, no. Da show penso ci vinca sempre. Basta avere qualcosa. No, perché ora c'è tanti presi walker. Sempre no. Però... C'è la cosa. C'è l'Oversplending... Overway... Helming... Splending... Helm... 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 Di Hop Park. Sempre comunque no. Però può mettere giù un bel po' di roba che appunto... Sì, comunque può anche mettere giù un lettore... Che se c'è la land attiva... Poi si... Sì, appunto. Poi può giocarlo... Poi succede qualcosa. Quindi sì, qualcosa può dire. È un mazzo... Un mazzo secondo me è super divertente da giocare. Trano a fare gnameria, una ferramenta. Sì, è una roba pazzesca. Cioè, è una quantità di carte. È incastabile, assurda. Però se riesci a scombare... Direi che hai praticamente una carta che ti vince ogni singola matchup. Non è un mazzo difficile a giocare. Però è neanche così semplice come fosse... È il mazzo della cintura di Batman. Contiene una cosa... Un aggeggio per ogni situazione. La tasca di etaberta, sì. Eccoci qua. Finalmente. I bei combo. E quel cane sedicesimo. Siamo riusciti a stappare al buon Bonadè. La sedicesima posizione. Semplicemente perché ho battuto un simpatico... No, il signore, perché era già sulla cinquantina, secondo me, a 45-50 anni, giocava a Steel Stompi con le Force, che l'accoppiata a calice Force per Ant non è mai una grandissima cosa. Però siamo riusciti a scurare e a portarla a casa. Prima di Ant partiamo da BR. BR è lista di Ulandon, Superstock. Non so se adesso Ulandon abbia tolto un Scythe per una Cavalteria. Comunque l'unico cambio da quando abbiamo giocato a noi, Monta, mi pare sia quello. A Celes di Mainforce. Ecco, sì. Celes invece che Titano Grave. Sì, sì, penso sia quella, praticamente. Ah, sono sì gli Scythe. Sì, di Scythe. Allora, senza di Titano Grave si sente. Eh, senza di Titano Grave si sente tanta. Sì, è un po' che è vista questa cosa. Pesante, infatti di... Ah, non c'è Magus della Luna. Non c'è Magus della Luna. E c'è il secondo Scythe Xantide. Sì, sì. Che di solito giocava a UL. Uno la giocava. È il secondo Scythe. Arista è forte. Ha imbloccato la giornata, 6-0. Ma il Marzio è buono. Cioè, con l'Ordal Mallegan secondo me... Il Marzio diventa anche buono se hai tutte le Seidate di Ulando, secondo me. Diventa ancora meglio. Diventa molto più buono in quel caso. Lui le ha. Lui le ha, lui le ha. Lui le ha e allora diventa... Giustamente. Infatti ha perso poi in top 8 perché ha sbagliato una Seidata. Che non ci sta. Non si è tenuto al libro. Eh, non si è tenuto al libro. Al libro della giungla. Ehm... Vabbè, può capitare. Quindi di rinimeto c'è poco da dire. Lo sappiamo. Sappiamo il mazzo che è. Poi adesso Sergi... Se frega un cazzo, quindi andiamo avanti. Però sai anche... Sai anche una cosa? Io non so se adesso la gente giochi... Meno Sargica. Secondo voi? Per me i numeri sono gli stessi. Al massimo... Sì, anch'io penso che più o meno. Meno Sargica al più RIP? Di prima? Possibile. Sì, forse può essere. Perché non può essere. Perché RIP è problematico. Però... È lento. È lento. A parte essere... Il conto di rinimeto ti dà un edge. A parte essere lento. Poi, se ben ricordi, molte partite che perdevamo erano... Magari sbagliavano noi giocare e con l'esperienza... Noi diciamo, voglio scombare, turno uno, cazzo duro, se c'è Sargica perdiamo. E quello era un grosso delle partite. Mentre con tre Serenity e quattro Raven Silence, cioè, più di scarti, era un bel... Cioè, un bel gestire, no? Però era... Gli gestivi. Gli gestivi. Andiamo finalmente ad Ant. Ant è... Il diavolo finalmente a me. A me. A me. Non aspettavi altri. No, prima commenti... Auto celebrativo. No, prima... No, ma che auto celebrativo? Non so, mica una vude, Dio. Prima... È un cane, però. Quello sì. Cane, gatto, ma soprattutto sono un maiale come Dio. Comentiamo prima la vista di quello che ha fatto Pott. Buon fasoli. Fasoli. Basta. Non ci sono altri accenti. C'è una cosa che non mi piace, ma il mio gusto. Personale, di Main, che è la quarta fetch... La quinta fetch che prende Nero. Io gioco sempre quattro... Sì, sì. Ma sono forse di Nero. Quattro delta e quattro... E quattro che prendono blu, però quelle che poi sono esperienze personali che... Ti voglio dire che quella non prende Tropical, tra l'altro. Eh. Eh. Non prende Tropical, però se giochi Verdant, poi non prendi Vulcanica. Vulcanica. Forse... E commetto che non ti piace anche la monoce in evapora di side. Ah, ti dico, non mi piace, però in questo momento... Non dico che la sto valutando, però bisogna valutare i push. Allora, lui giocava le Fluster, quelle non mi piacciono in questo momento. La chain ci può stare. Anche perché se devo mettere le muva contro Delve... Cioè, a parte i push, ma se voglio mettere una risposta all'oof, all'unarrod, eccetera, eccetera... Io voglio la chain, non voglio il decay, a meno che come faceva il buon shaman Fabrizio Marchi, che tra l'altro è stato quello da cui ho preso 1-1 in middle. Lui giocava, come abbiamo provato anche noi, quando provava qualcuno online, la basica verde di side. Se giochi basica verde, allora metti decay. Quella è una cosa che ci sto a farlo contro Delve. Ma se non metto basica verde, cazzo facciamo. Cioè, io mettiamo decay contro Delve? Dipende, sai, se hai carpet lo puoi fare comunque, perché se risolvi un carpet poi da lì in poi i decay li tiri. Sì, già c'è una condizione. Se risolvi un carpet. Non lo so... Dovrò valutare, essenzialmente non mi piace mettere dentro decay. Cioè, piuttosto... Mela rischio, una grande citazione. È già così. Anche perché secondo voi, tipo, turno 2, uno si tap out per fare l'arrode. Se ha fatto Delve forse sì. Se non ha fatto Delve, io dico di no. Dipende anche da che cosa ti ha in mano. Per fare Sinderbine, se no, di sicuro. Per fare l'arrode ci può anche stare. Ci può anche stare, dici. Per avere qualcosa, sì, almeno una forza. Cioè, io sinceramente se ho una forza, faccio un'arrode di secondo. Però se no, niente, no. Capisco. Beh, sì, valuterò, ma ti dicono, mi piace, preferirei stare dentro la chain. Stare sotto dei counter, non stare sotto gli islandi. Che già non abbiamo tre basiche. Boh, poi bisogna un po' anche lì, magari su una mia. E metti questa basica verde, non rompere i scatti. Su una mia parola. Esatto. Giochi Bug Hunt. Esatto. Allora, la side... Shadless Hunt. La side di... Casco Inferno. Side di Fasoli... Ha detto... No, la side di Fasoli gioca appunto le faste che dicevano. Similar alla mia, gioca la Tormod invece che le Sargical. Mono Sham, il Mono Sham ci sta, l'ho provato anch'io stasettimana. Al posto di un Decay. Vedo che tutti adesso giocano tutti e due Decay. Solo io e Morasso, che giocavamo la stessa 65, giocavamo tre Decay. Forse è effettivamente troppo. Però in Italia, quando becchi i miracoli... Sai, quando hai già due Coing, due Harkin per gestire le altre rocce, effettivamente il terzo Decay è eccessivo. Sì, sì, sì. È eccessivo. Meglio una Chain. In quest'ottica... Per esempio, se fossero tante Counter Balance, probabilmente toglierei un Harkin o un E-Coin e giocherei tre Decay. No, no, no. Alcuni non li puoi mai togliere. Quelli sono quattro carte che non puoi mai togliere. Due Harkin, due. Voi che voglio mai. Cioè, vecchi Calice devi... Cioè, il terzo Decay lo metto a posto di qualcos'altro, ma... Quello io penso che ci siamo proprio i quattro slot che da Hunt in questo momento non si vedebano mai andare. Cioè, poi uno può magari giocare più Chain. Però, ad esempio, stiamo parlando di un Calice che è già 10% del meta e secondo me quattro slot sono troppi a questo punto. Se davvero i dati sono... Vabbè, dopo però Echoing va anche dentro quanto cosa. No, ti stavo dicendo, se vuoi togliere gli Echoing per mettere... Tipo delle Chain ci può stare, dopo ci sono altri match-up. Però dopo ti becchi quei massi improbabili. Ecco, non li puoi mai togliere perché ti becchi massi con degli incantesimi improbabili. Vabbè, ma anche solo il 20-20. 20-20, no? Infatti Archive è quella che secondo me magari una copia potrebbe essere... Beh, inizio a giocare Hunt e poi fai quel cazzo che vuoi. Finché sono io a giocare Hunt e poi faccio risultato e ci resti male. Esatto. Quindi diciamo che la side, a parte le fruste, mi piace la sua. La mia... La lista c'è poco da dire. Giocare empty di main, come dicevamo. Petition che forse adesso andrà in pensione. Causa Marina. Nuovo tutore che avevo... La mano! La mano di Dios, la mano di quel cuore. La mano di Gianni. La mano di... E diamo forse la mano di Gianni. L'unica cosa che può venire in aiuto è una mano vera, che a voi giocatori di Hunt mancano. Esatto. La mano ha tanti pro, qualche contro. Il contro più grosso è... I due contro più grossi sono che... Come si chiama la mano, diciamolo ai nostri telespettatori? Wish Talisman. Che è una carta di... Come cazzo si chiama? Il di 6 nuove? Trono Eldraine. Trono degli Eldrazi. Che in pratica fa... Scende con due, artefatto. Hai tre segnalini. Tappi uno a tappi. Solo nel tuo turno. Fa demoniaco. E poi la passa all'avversario. E poi si può attivare, come dicevo prima, solo nel tuo turno. Però poi ti dà l'instant nel tuo turno. Quindi è molto figa con interazioni tipo... Ce l'ho giù, tiro l'inferno, mi canta l'inferno. Ho rotto di Eldra, tutt'ora. Cioè fai infinite figate. È fortissima in Mirror. Perché è fortissima in Mirror? Perché uno dei due contro è che fa schifo con Empty. Chiaramente. Perché se sei contro controllo, ad esempio, e usi la mano per prendere Empty, facilmente controllo avrà una risposta di main. Abbiamo visto prima i controlli. Avevano tutti... Ho i Terminus, quindi se hai i Terminus in mano vai a prendere la Brands. Se hai il Brands in mano vai a prendere i Terminus. E siamo lì. Oppure c'hanno il verdetto. Oppure c'hanno chi gioca il nero. Delle removal nere. Gli altri mazzi generalmente non ce l'hanno. Tipo se lo fai contro Delver. Si tuttora qualcosa. Ma magari si può tuttora della Race. Magari ti autrace. Quindi con Empty non è figo. E poi con Peef non è così figo. Perché benché ti vada diventa un... Come si chiama? Un Grim Tutor. Costa 3. Perché lo appoggi. Tu uno dopo scombi. Usi 3 mana. Perché cosa devi fare? Tappi uno, lo tappi. Vai a prendere Infernal. Per prendere la Petition. Per poi ritirare Infernal. E prendere Tendris dopo che hai fatto quello che dovevi fare. Quindi quelle lì sono le due sfiga più grosse. Però il mirror è fortissimo perché l'appoggio non ti possono fare un cazzo. Contro gli altri mazzi non sai mai come sei messo. Ci sono delle situazioni tipo appoggi i led e sei quella lì. Devi counterare i led. Che può capitare di tutto. Anche... Sì appunto. È un casino. È veramente un casino. Quindi è molto forte. Però post-site diventa più scarsa. Causa uff. Causa... Cioè deve essere sedata fuori contro i mazzi con Karn. Così come dovrebbe essere sedata fuori la Petition. Contro i mazzi con l'A-Line. Che bene o male i mazzi con Karn hanno anche l'A-Line. I mazzi che hanno l'A-Line sono anche di più. Quindi questo è un pro magari dalla parte della mania. Però ci sono gli hate per gli artefatti. Che poi gli hate per gli artefatti non siano così tanti contro Hunt. Non vengono sedati così spesso. È vero. Però ci sono. Tipo c'è Nairod. Tipo c'è Uff. Tipo qualche remover ci può essere. Lo stesso Cinder Vines. Quindi qualche sfiga ce l'ha. Però si può provare. Di sicuro non ne giocherei tre. Ho visto che ne giocano tre. E hanno tolto empty. No. Io penso che due sia il numero probabilmente. Toggo un pro Dane. Cioè se devo giocare due togo empty dal mezzo. Forse voglio veramente togliere. Non lo so. Non lo so. Cioè alla fine. Se sei contro Canegna ad esempio. Non ce l'ha la risposta. No non ce l'ha. Però se non lo fai. In fretta. Ma poi io penso che se tu hai appoggiato quella. Il turno precedente. Molto probabilmente riesci a chiudere senza la star empty. Sì sì. Quello è probabile. Poi bisogna vedere che mano hai. Però anche quello è probabile. Qualcuno toglie un pro Dane. Non mi convince tanto. Però vedo che nessuno toglie uno degli scarti. Non puoi giocare meno di otto scarti. Cioè comunque questa carta ti dà consistenza. Perché in tanti match up. Anche se poi la puoi giocare anche solo per prenderti una brainstorm. Ma anche se l'avversario. Main deck parlo. Se l'avversario va a prendersi qualcosa. Tanto che cosa vuoi che si prenda? Sprenderà un counter o uno scar? Cioè difficilmente ci hanno già un palo a main deck che ti distrugge completamente. Se ti va male. Cioè no. Ecco no. Chiaramente non lo puoi fare a contemarsi con i pali questa giocata. Ma è chiaro. Il match up lo devi conoscere ovviamente. Però a seconda del match up. Puoi permetterti anche di farlo utilizzare una volta l'avversario. Senza grossi problemi. Ultima osservazione. Terza basica che volevo mettere. Non penso la metterò. Non sto beccando dei level. Però non penso sia necessario. Penso che la conformazione debba rimanere questa. Andare a utilizzare uno slot di side per spostare una delle fonti verdi di main. Per mettere la terza basica di side. Di main. No. Infatti è buono. Devi smettere di piangere sui delber deck. Devo mettere la terza basica. Arriviamo a tasse. Dove basso tutte e due schermate. Ok. Quindi tre giver. Un solo recruiter che secondo me ci può stare. Tre soli. Qui ecco. Serravenger. Serravenger mi sembra troppo. Ah no. C'è anche Tomic. Ok. Sì. Ecco. Io non capisco Midian Crusader. Non capisco. Non capisco. Lo vedo online. Lo giocano tutti. Quindi evidentemente sono io che non capisco. Mi sembra una carta di merda in questo momento. Cioè non capisco. Muore da full. Fulmine. Costa tre in mano. Muore da full. Senza fare niente. Non capisco cosa. Era forte ai tempi di Grissi Sconto. Adesso di Grissi Sconto. Certo. Ai tempi. Ai tempi ovviamente era molto forte. Ma adesso. Veramente mi sembra una carta. Che non ha motivo di essere giocata. No. E. Forse la passione. Forse la convinzione. Che almeno possa bloccare dei Goif. Però. E. Sì vabbè andai. Gistici anche i mandrilli. Però. Si fa ridere. Ma i mandrilli. Comunque non è che sia così diffusi. Quindi. Quindi. No. Però comunque per dire che. I ciccioni verdi di Canadian. Che è il mazzo più giocato. Almeno. Giocare. Giocare due Milan. E giocare. Tre flicche e whisper. Mi sembra un po'. Tre flicche e whisper. Mi sembra un po'. Una bestemmia. Però. Abbastanza. Di side ci sono i calici. Di side. Ci può stare. I calici. I saggi. Che resti in peace. Quindi. Un cazzato col cimitero. Che ci sta. E declui. I brocoun. Che ci può stare. No side ci sta. L'altra lista. È. Su consiglio di. Buschi. Tocchi. Pochi di tocchi. Ci sei anche te nel gruppo di tasse. Monta. C'ero. C'ero. uscito perché c'erano troppi gruppi. E ora non lo sto testando. Qui c'è Brimax. Cosa ne pensi di Brimax? Brimax è un buon ciccione. Se tu vuoi un drop a tre che picchi. Lo preferisco nettamente a Miran Crusader in questo momento. Visto che sta fuori a fulmine. E. È una buona carta che picchia. Non mi sembra assolutamente una carta necessaria o indispensabile. Però è una carta che si può giocare. Quindi sì diciamo che l'importante è non giocare in Miran. Poi vale tutto. Sì appunto. Poi ho fatto top 8. Quindi al solito. Se ho fatto top 8 c'era un motivo. Però non credo. Immagino il motivo. Non sia Miran il motivo. Comunque ecco. Lui gioca a tre flickerisp. Però c'è da dire che gioca a quattro volanti. Che sono i Star Avengers. Sì sì. Quindi per quanto sia brutto giocare tre flickerisp. Se c'è una lista che lo può fare. È questa qui. E niente. Vabbè. Tutti giocano. Spero tutti. No. Ecco. Uno gioca lo split tra penure innevate e penure normali. L'altro no. Quello è oggettivamente un errore per via di predict. Anche se le probabilità sono molto basse. Però quello è sbagliato. E non ci sono grossi discorsi da fare. Il lastricato è una carta diciamo figa. Il problema è che sai di rip in alcuni match up e diventano una tenura slandabile. E poi tra l'altro. Gioca 90 in più. 24. Perché sono. Beh. Ci può stare perché gioca troppo uno in meno. E gioca. Gioca. Gioca in Miran. In Miran sì. Poi triplo council di side con due carta. No no. Quella in realtà è una scelta. Una scelta sensata. Ci può stare. E invece la spada adesso bisogna giocare di side immagino. Non credo sia necessario. Cioè non credo sia fondamentale. Cioè si può giocare come non giocare. Si può giocare. No perché l'avevo visto tanto. L'avevo visto. Sì sì. Cioè non credo sia mai una cosa obbligatoria. Non c'è altre possibilità. Ci sono tante possibilità per tasse. Cioè il core è sempre il solito ma. Qui. Qui finiamo. Con le varianti di tasse. Poi ci salutiamo. E giocano ancora. Adesso. Praticamente tutti giocano i Giver. A parte uno giocava l'Aden. Ma sappiamo che i tali ci sono sempre. E uno giocava. I squadrono. E forza Vigor. E forza su Virtue. Quello deve essere. Quello che giocava la versione con i Calici anche. O no. No 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 no. Non era. Ci diacono. Lo Stompi. Quello che c'è. Me ne parla di te. Molta. Sì. È una versione che. Non soffre per nulla brand. È la quella di Phil Gallagher. L'ha fatta lui. Può essere. Non lo so. È una lista. Diciamo interessante. Però c'è da dire che. Se tu non peschi squadrono. Non hai un mazzo. Perché devi. Cioè devi pescare insieme squadrono. E forza su Virtue. Perché altrimenti. Cioè. Hai solo schifo. Perché squadrono. Da solo fa schifo. Forza su Virtue da solo. Non è forte. Quindi hai bisogno di. Di pescarli insieme. Se lo fai. Secondo me è un mazzo. Senza. Però è. Insomma. Ha vari. Vari sfighi appunto. Cioè. Più che altro. Poco. Credo sia. Rischi di essere poco consistente. Se non riesci a trovare queste carte qui. Quindi. Ti ando le somme. Per GP. Anche perché. Il video. Del 4 season. Pieno di GP. Sera un po' anche. Ah. Scusa. Scusa. Un'ultima cosa. Sono 8 slot. Quegli 8 slot. Spesso sono di carte. Che ti servono per vincere. In alcuni matchup. Tipo i revoker. Tomic. Tutti questi. Infatti adesso. Perché mi viene in mente. Mi sa che ne parlavo con Buschi. Che mi diceva. Quasi aggro. Esatto. Esatto. Mi diceva proprio questo. Che non era praticamente neanche un tasse. È un white fury. White fury. Salutiamo. Il ninja. Che ci sta ascoltando. Da sotto terra. Dopo che la mafia nigeriana. L'ha preso. E la mafia toscana. No. Tirando. Tirando le somme. Anche perché. Per il GP. Sarà un casino. Fare il video. Del forsisio. Che c'è una settimana prima. Poi c'è nebracca. Che c'è una settimana dopo. Vedrò cosa inventarmi. Vice. Vice. Non ti porto domani. Non ti porto. Direi. Direi che possiamo fare un video. Dove. Solo il meta. Ma non. Specifico. Facciamo veloci. Sì. Ci potrebbe stare un video. Un video. Con solo il meta. Un video lampo. Che buttiamo fuori. Tipo subito. Il giorno dopo. E. Ci può stare. Ecco. Mi ha dato una bella idea. E magari dopo. In Nebraska. Tirare un po' tutte le somme. Tra GP. Tutti cazzi. E. Bravo Anuel. Dio che stiamo finendo. E vai a fare dei layers. E. Anuel. Anuel. Eh. Scusate. Scusa. Scusa la merda. Va bene. Stavo dicendo. Tirando le somme. In avvicinamento al GP. Che cosa? Deve. Giocare. La gente. A parte. Il pet deck. Che sa giocare. Però mettiamo che uno. Non gioca legacy. Non ha un pet deck. Eh. E mille. E mille cazzi. E ramassi. Dipende sempre molto. Anche dal tempo. Che ha per testare. Perché se no. Non. Sì. Comunque. Bisogna sempre. Tenere a mente. Oltre. Al solito. Delver. Come agro control. Miracle. Comunque varia. Controlli bianchi. I controlli al momento. Sono a base bianca. Ovviamente. A sto punto. Mi sentirei di dire. Ovviamente. Ma comunque. In generale. In generale. Controlli a base bianca. Quindi. Se uno tiene a mente. Brand deck. Controlli a base bianca. E. E ant. Beh non male. Queste sono cose importanti. Non devi avere matchup negativi. Da due di questi. Altrimenti. Il mazzo è sbagliato. Io giocherei. Io giocherei. Bridgevine. Secondo me. È un'ottima scelta. Bridgevine. Probabilmente. Sì. Dovrebbe battere. Due su tre di questi. Ha delle sfighe. Ha delle sfighe. Però. Secondo me. È un'ottima scelta. È un mazzo. Come dicevamo prima. Che. Relativamente aspettato. È un giocatore di moda. Che lo giocava. Magari. Potrebbe portarlo. Sì. Esatto. Sì. Però ad esempio. È uno di quei mazzi. Che se tu hai giocato. Tutt'altro. Fino al giorno prima. Non lo puoi prendere. Prendere su. E portare. Non è che sia neanche impossibile. Comunque. In generale. Secondo me. Per un GP. Ha senso portare. Un mazzo. Che non va dai turni. Intanto. Questa è una cosa. Abbastanza importante. Che è sottovalutata. Quindi. Quella è una cosa buona. Sia perché. Non vuoi ovviamente. Mai partare. Ma anche perché vuoi. Risparmiare energie. Perché obiettivamente. Sono due. Se uno vuole fare top 8. Sono due giorni. Dove non fai altro. Che giocare a magic. E non è una cosa sottovalutare. Quindi. A parità di forza. Il mazzo. Preferirei sempre. Il più veloce. E. E niente. Quindi. C'è la considera. Questa cosa. E anche un mazzo. Possibilmente. Che abbia. La possibilità appunto. Di fare delle. Di avere. Le free win. Che è una cosa abbastanza. Cioè. Aprire una mano. E dire. Ok. Questa partita io la vinco. A meno di cose stranissime. Queste sono cose che i Delver deck possono fare. Così come Ant. Mentre i controlli non lo possono fare. Quindi io sinceramente. Non porterei controllo. Poi. Chiaramente. Parlo. Cioè. Parere personale. Ma non sto dicendo che sia sbagliato portarlo. Non porterei. Non porterei un controllo post cap. Esatto. Sì. Cioè. Prima il controllo si portava. Forte. E fine. Però adesso. Non è. Non sono palesemente mazzi più forti. Sono mazzi buoni. Giocabili. E tutto. Ma probabilmente non. Sicuramente non a livello di Canada. Eccetera. Però quando. Nell'ultimo periodo. Anche quando avevi. Avevi Miracle con K. Avevi la possibilità di chiudere la partita. In breve tempo. Perché. Esatto. A un certo punto facevi così. Scappamento. Esatto. Ma con lo stesso che si scontoli in meta. Alla fine ci stava a portarlo. Secondo me. Era un controllo leggermente più veloce. Cioè. Avevi. Quella forbice che ti faceva Snapcaster. E. Colgan Com. Sì sì esatto. Colgan ci potrà stare. Ma già lì Miracle non lo potete più portare. A meno che tu non sia un giocatore forte di Miracle. Non ci sta. Sì sì. Quindi sì. Anche secondo me. Dragon's Tumpy. Come abbiamo detto oggi. Però purtroppo. Non sembra avere tutti questi. Questi buoni match up. Non lo so. Purtroppo o per fortuna. Ma sì. Ecco. Può essere anche variante. Perché parliamo comunque di. È un. Sì. Un campione piccolo. Un campione di quattro giocatori. Che comunque. Vedremo. Vedremo. Il tempo sarà avanti uomo? Non credo proprio. Perché. No no. Il tempo ci fotterà. Come l'ha vinto. È un gran maiale. Chiudiamo qua. Signori. Adios. Hasta luego. Adios. Adios.